Parlando ancora quindi di future generazioni, di attuali generazioni, abbiamo qui Alessandro Fusacchia che è un deputato di Facciamo Eco che sta portando avanti un'importante battaglia, o meglio un'importante campagna che si sta finalmente realizzando in Parlamento con l'abolizione del vincolo che impedisce la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. Mi aggancio in particolar modo a questa iniziativa che è un progetto di legge che diventerà a breve legge al Senato. Proprio perché la domanda è come possiamo affrontare la transizione ecologica se non riusciamo prima a sviluppare nuove competenze. Purtroppo il sistema di formazione e di istruzione ha in qualche modo irrigimentato la formazione, facendoci trovare impreparati ad affrontare la transizione ecologica, impreparati a vedere i nuovi lavori che si appresteranno a fare. Quindi io chiedo ad Alessandro e chiedo ad Elena soprattutto come facciamo a sviluppare nuove competenze e soprattutto queste competenze ci possono permettere di vincere una grande battaglia che è quella di azzerare le diseguaglianze. Come possiamo rendere attuabile tutto questo? Buongiorno. Io volevo partire da prima fare due veloci incisi Giulia. Uno, prima qualcuno chiedeva leggendo forse un tweet o un commento era quali devono essere le priorità per il partito ecologista o la lista ecologista. Poi giustamente Rossella ci dà dal suo punto di vista. La mia risposta apparentemente controintuitiva è l'istruzione. La priorità di un partito di una lista ecologista è l'istruzione. Perché è la chiave di tutto. Cioè quando noi ragioniamo sulle competenze quindi prendiamo tutta la filiera dalla scuola universale alla ricerca ma lasciamo la ricerca da parte per un secondo. La parte proprio formativa in un mondo che tra l'altro sta finalmente capendo che non è che si studia una volta e poi a un certo punto si comincia a lavorare. Si studia e per fortuna o per dramma poi si continua a studiare per tutta la vita. Allora in questa chiave qui la filiera formativa diventa centrale. Un po' perché altrimenti con quale competenze la dovremmo fare questa transizione ecologica e non è solo una questione di avere da una parte i tecnici e da una parte i politici ma di avere una consapevolezza diffusa molto più forte. Quindi la scuola e riprendo quello che diceva prima la ragazza dei Fridays, non mi ricordo come ti chiami, Agnese scusami, che diceva Agnese la scuola ha una dimensione fondamentale la scuola università ma la scuola anzitutto non è per scaricare le colpe o le responsabilità come viene spesso fatto ma è perché in democrazia non conta solo l'offerta politica. Noi oggi qui stiamo discutendo di offerta politica, riusciamo a mettere in campo una lista, un progetto politico per offrire ai cittadini la possibilità di sentirsi rappresentati per una fetta di quei cittadini e di quelle cittadine che chiedono cose diverse. Ma la politica si fa innanzitutto in democrazia con la domanda, cioè come alimentiamo la domanda di una politica diversa? Costruendo nuove generazioni, nuove generazioni intendo mia figlia di 5 anni che è una nuova generazione che è presente pure lei ma diciamo c'è ancora un po' di percorso da fare, che cresceranno nei prossimi anni spingendo una direzione politica diversa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, questa scuola attenzione perché io sono molto preoccupato dal fatto che in questa fase inevitabilmente storica quando parliamo di scuola ormai si parla se va bene solo di mascherine, quarantene, c'è tutta una serie di questioni ovviamente fondamentali ma uno, continuiamo ancora a parlare troppo di mascherine e troppo poco di disagio psicologico che sta diventando un dramma per tutti i ragazzi e le ragazze che stanno a scuola. Secondo, la scuola deve restare e deve essere sempre più aperta perché c'è una parte dell'intelligenza francamente di sinistra che comincia a dire che la scuola deve tornare al posto dove si fa lezione frontale e basta perché i ragazzi e le ragazze oggi devono solo studiare nel senso come si faceva quando eravamo giovanino e quando eravamo piccolino e che abbiamo 40 anni. Quella scuola lì è la scuola che a un certo punto l'ha bloccato l'ascensore sociale. Quindi l'idea che oggi i ragazzi e le ragazze l'alternanza scuola, a parte che stiamo creando una grande confusione perché c'è una questione da aprire sull'alternanza scuola lavoro in Italia perché in tanti casi, per esempio, ci sono situazioni in cui i ragazzi non vanno a fare un'esperienza formativa e a scoprire cos'è il mondo. Però a me piacerebbe che i ragazzi che stanno a scuola andassero alle migliori imprese che fanno veramente la transizione ecologica a capire che cos'è, a vederla, non necessariamente a lavorarci, a farla, ci mancherebbe altro. Allora però attenzione perché vedo che qui siamo in una fase in cui prendiamo delle cose, le ideologizziamo e ci perdiamo dei pezzi importanti. Quindi come facciamo a fare in modo che i ragazzi e le ragazze mantengano quella esposizione a cosa sta fuori, mantengano quella possibilità di fare esperienza? Perché io sono il figlio di una generazione che ha studiato facendo i compiti chiuso in una stanza a casa al pomeriggio, Rieti, 50.000 abitanti, la provincia italiana, penso abbastanza rappresentativa del paese, e che francamente è arrivata a 18 anni che non sapeva niente di quello che c'era fuori, che l'ha sbagliata l'università tra virgolette. Poi a me è mandata bene perché mi sono un po' rabbattato come si dice e sicuramente ho fatto sacrifici, ma io ho scelto l'università con il libro perché non c'era manco internet delle facoltà universitarie in Italia, ma stiamo scherzando, ma è ovvio che c'è disorientamento generale. Oggi è ancora peggio, quindi l'esposizione al mondo deve essere quella. Chiudo con una parola sulla doppia laurea. Allora la doppia laurea vorrei demistificare una cosa, è una proposta di legge che la prossima settimana forse anche il Senato approva o nelle prossime settimane che prevede l'abolizione di un divieto che esiste dal 1933 in Italia per cui non puoi fare due lauree insieme. Non avete idea di quante ragazze e ragazze in giro per il paese vogliono questa legge e io sono stato il primo, sono il relatore, alla camera pure io mi sono stupito, ho detto mamma tutti questi ragazzi vogliono fare due lauree insieme. Cosa c'è dietro? Non c'è il desiderio di fare due lauree insieme perché così fai due lavori domani in un paese che non te ne offre manco uno, francamente, ma c'è la comprensione del fatto che l'ibridazione delle competenze oggi, nel momento in cui la tecnologia ha invaso le scienze sociali, perché oggi se fai giurisprudenza e fra dieci anni vuoi essere un avvocato che si batte per i diritti dei cittadini, deve sapere vivisezionare un algoritmo e pensate che a giurisprudenza vi insegnano questo? Se fai l'archeologo devi sapere, utilizzare e capire che cosa sono i droni, perché non è che i prossimi siti li scopriamo come Indiana Jones, ma questa separazione delle competenze è fondamentale, quindi ritornare a ibridare, ritornare a prenderti dei pezzi e a farti un percorso formativo abbastanza unico è quello che ti permette di andare a trovarti il tuo posto nel mondo, però se hai fatto anche esperienza, esperienza di vita e di studio fuori dai luoghi predisposti a questo.